Ben trovati, il 18 ottobre è sabato e siamo a Monte di Procida sul Belvedere in via panoramica. Stiamo godendo di questo paesaggio spettacolare, c'è un tramonto davvero magnifico dopo una giornata di sole tutt'altro che autunnale. Infatti questo weekend è un po' anomalo, invece di andare a cogliere le castagne, stamattina siamo stati sulle spiagge di Miseno e Miliscola a Bacoli, dove tantissimi erano i bagnanti che hanno approfittato di questa splendida giornata per dedicarsi al mare. Sole, mare, spiaggia e tanto relax qui su queste spiagge, davvero tanta gente che si è divertita a fare i castelli di sabbia, a godersi di questo weekend un po' tardivo per essere estivo, ma in realtà l'estate è ancora qui nei campi Flegrei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.